Salve, io mi chiamo Natalia Bojciuk, sono un'attrice, vengo dall'Ucraina ma da circa 10 anni vivo in Italia. Nell'anno 2010 mi sono laureata in arte drammatica presso l'Accademia Karpenka Karoho di città Kiev. Ma da quando mi sono trasferita in Italia? Ovviamente ho continuato. Ho studiato sempre recitazione, canto, movimento. Mi sono specializzata in improvvisazione teatrale. Amo improvvisare. Da qualche anno collaboro con una compagnia teatrale che si chiama PUC Theatree. Come avete capito ho tanta esperienza in ambito teatrale e un po' di meno in ambito cinematografico. Ma, come si dice, mai è tardi. Quindi forse per questo sono qui. Dell'ultimo che ho fatto era stata una sitcom che abbiamo creato quest'estate. Si chiama Comodi Comedi. Potete trovare sempre sul nostro YouTube canale. Potete trovare semplicemente scrivendo Comodi Comedi. Spero che ci vediamo presto. A presto. A presto.